Scelte coraggiose premiate dal campo e dai tre punti al tecnico del Foggia Luciano Zauri sono bastati un paio di giorni per comprendere da chi ripartire e a chi in quel momento dare fiducia e la fiducia l'allenatore abruzzese ha voluto darla ai più giovani premiando voglia entusiasmo e maggiore spenseratezza e sacrificando gente come Emma Usso, Murano e Tascone tutti inizialmente in panchina ma se per Tascone l'esclusione iniziale poteva essere nelle cose considerato che era reduce da infortunio maggiore sorpresa hanno destato quelle dei primi due dentro dunque i vari Pazienza, Dariva e Sar Io non ho nessun vantaggio a far giocare uno o un altro se non dall'interesse del Foggia quindi chi secondo me, secondo il mio staff, merita di giocare gioca ma non è niente precluso a chi sta fuori anche perché chi è entrato ha fatto anche bene dimostrando che ci tiene però insomma il calcio è forte di scelte e responsabilità sono le mie Scelte che non è da escludere Zauri non possa replicare venerdì sera quando allo Zaccheria il Foggia sfiderà la Casertana nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato una gara in cui mancherà proprio Tascone per squalifica ma in compenso torneranno ad essere a disposizione Salines, Felicioli e Silvestro che hanno scontato le rispettive squalifiche